Abbiamo Maria Teresa come modella e oggi vi farò vedere con piccoli trucchi come nascondere le occhiaie. Come primo step dobbiamo utilizzare un correttore dello stesso colore della pelle. In questo caso io farò il mix dei due per avere il colore giusto. Con i polpastrelli della mano prendo il correttore e picchiettando lo metto sulle occhiaie. In questo modo. Terzo step prendere un pennello a goccia e sfumare il correttore che abbiamo messo sull'occhiaia. Questo serve per togliere il prodotto in eccesso e non creare quelle brutte righette che in genere i correttori fanno. Come piccolo segreto useremo alla fine un illuminante e lo metteremo sul confine tra l'occhiaia e il viso. Per fissare il nostro correttore prendiamo della cipria compatta o anche in polvere e sempre con il nostro pennello a goccia. E voilà sempre. Ed abbiamo finito.